Musica Sono passati due mesi dall'ordinanza comunale che impone lo sgombero della cosiddetta Casa Rossi al civico 3941, lo stabile occupato da anni da sbandati e senza fissa dimora. A distanza di tempo siamo tornati in via Torresi e, se da un lato i catenacci ben saldi e le persiane tappate non consentono l'accesso agli estranei nella casetta, la zona circostante continua ad essere frequentata, ci dicono gli esercenti, da persone che sporcano e deturpano il quartiere, specialmente al calare della sera. Qual è la situazione al momento? Allora, diciamo che non è stata una cosa immediata, perché comunque hanno continuato a circolare indisturbati, entrare ed uscire, ma al momento, non lo vorrei dire troppo forte, sembra che la situazione si sia appianata. C'è ancora la catena, le finestre sono al momento chiuse, sigillate e non si vedono strani movimenti in quella casa. Poi, passaggio di gente poco raccomandabile, ce n'è sempre purtroppo. Però al momento, ex Casa Rossi, la questione sembra essere risolta. Ecco, voi qui lavorate, avete un'attività da tanti anni, qual è la situazione al momento a livello di degrado nel circondario? Allora, il degrado è ovunque, ti basta attraversare la strada, andare in questa specie di campetto, dove tra l'altro portano anche i bambini per i centri estivi, li portano quando escono da nuoto con la scuola per l'attività sportiva. È pieno di rifiuti, bottiglie di birra, cartoni della pizza, vetri, pacchetti di sigarette, mozziconi di sigarette. Tanta gente che approfitta di questo spazio, invece che lasciarlo come l'ha trovato, lo usa come tipo una discarica a cielo aperto. Non possiamo sbilanciarci a dire che la situazione è completamente risolta, perché comunque i bivacchi ancora in zona ci sono. Bisogna solo stare attenti e allerta a recepire qualsiasi tipo di segnalazione, noi come Comitato ci siamo, e a capire dove porre ulteriori limiti qualora la situazione degenerasse. Durante la sera la via comunque può ospitare qualche baby gang, perché la stessa parrocchia si era lamentata di qualche atto di vandalismo, è successo la settimana scorsa, per cui chiedo anche l'aiuto alle forze dell'ordine, stiano dietro a questo quartiere che è molto grande, che va dalla tavernella al piano e che ha bisogno di ritrovare il suo giusto equilibrio anche in tema di sicurezza e di decoro. Attendiamo con ansia la riapertura della scuola, del comparto quello che dal 2008 era chiuso, sperando che poi anche l'effetto del PNNR sullo stabile Sabine che è dietro alle Savio possa portare risultati in maniera celere per avere un comparto che contribuisce a dare ulteriore decoro a questo rione.